È finalmente arrivata la notizia ufficiale che tutti stavamo aspettando, Giulia Stabile farà parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici. Grazie al suo talento, alla sua simpatia e genuinità, ha conquistato davvero tutti, anche la fascino, che ha deciso di investire su di lei. Nel trafiletto di una recente intervista rilasciata dalla ballerina a Vanity Fair, si legge. Giulia è sotto contratto con Fascino di Maria De Filippi e sarà nel corpo di ballo dei professionisti nella prossima stagione di Amici. Non è ancora del tutto ufficiale, dato che in questi giorni aspettiamo la comunicazione della redazione di Amici, ma è chiaro che Giulia fa ora parte della grande famiglia della Fascino. Buone notizie, quindi, per tutti i numerosissimi fan della giovane ballerina, che speravano di rivederla presto sul piccolo schermo come ballerina professionista di Amici. Siete contenti di questa notizia? Immaginavate un altro futuro per la giovane Giulia? Oppure siete contenti di rivederla nella nuova edizione di Amici? Fatecelo sapere nei commenti. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.